Fulvio Abate, Teledurruti. Mi sento assediato, anzi imbottigliato, tra il Vespone di Fiorello, che per alcuni dovrebbe essere protetto dall'UNESCO, e il Vespone di Nanni Moretti, che anche quello per altri dovrebbe essere messo sotto la tutela come patrimonio dell'umanità. Non ho altro da dire. Non ho speranze. Fulvio Abate, l'unica cosa? Scoprirmi un così bell'uomo. Ma le donne sono un altro problema. Vabbè, il problema è la mia vita. Perché se non fossi mai stato così tanto... Se le donne non mi amassero così come mi amano, avrei una preoccupazione in meno. Teledurruti. Teledurruti.